Questo è veramente un gioiellino. In locazione. Cominciamo dalla vista. La terrazza, con tutti i suoi faretti, ha le tende che la rendono anche completamente intima. Cucina nuova, mai usata. Piastre in induzione, piastre per il walk. È pensata molto bene e fatta tutta su misura da questa parte. Abbiamo, all'entrata, bagno con doccia, armagliatura con illuminazione. Sono i faretti dappertutto. Questa è la prima camera, dunque quella più piccina. Entriamo nella master, dove abbiamo un bellissimo bagno con la toilette, un bagno in resina, la finestra. E questo bellissimo bagno. E adesso andiamo nella camera master. Anche questa ha un bellissimo affaccio sul verde. Dunque, davanti a questa bella vista, riassumiamo. 122 metri quadri, tre e mezzo, un gioiello, compreso il prezzo di locazione. Hai due parcheggi interni e una cantina. A presto!